L'Europa è testimone di una tragedia senza precedenti mentre la Grecia lotta contro il suo peggiore incendio mai registrato. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Da oltre 11 giorni, il fuoco divora la regione di Alessandropoli e la foresta protetta di Dadia, al confine greco-turco, in un'incombente devastazione che ha già portato alla morte di 20 persone, tra cui 19 migranti e un coraggioso pastore. Questa catastrofe ambientale e umana ha sconvolto il paese, richiedendo un'enorme operazione di soccorso e unificazione internazionale. Le fiamme incontrollabili hanno divorato un'impressionante estensione di 81.000 ettari di terreno, con il fuoco che ha lasciato dietro di sé solo distruzione. La Commissione europea ha mobilitato risorse da sei paesi membri per contribuire agli sforzi di spegnimento, inviando 11 aerei antincendio e un elicottero dalla riserva Rescheo. Tuttavia, la catastrofe non si limita alle fiamme e alla devastazione, ma si intreccia anche con l'oscurità dell'odio razziale. L'estrema destra greca, in un raccapricciante sforzo per attribuire la colpa, ha puntato il dito contro i migranti. Anche se le motivazioni rimangono oscure, alcuni estremisti accusano i migranti di essere responsabili degli incendi, portando a un'onda di razzismo e violenza. Video sui social media mostrano individui che catturano migranti e incitano alla violenza, rivelando un lato oscuro e pericoloso di questa crisi. Mentre la Grecia combatte l'incendio e le sue conseguenze, il paese è impegnato in un confronto interno sulla riforestazione, la prevenzione delle alluvioni e il sostegno alle vittime. Il primo ministro Kiriakos Mitsotakis ha affrontato la sfida, cercando di garantire che le comunità colpite abbiano il supporto di cui hanno disperatamente bisogno. In mezzo a questa tragedia, l'ondata di razzismo aggiunge ulteriore tensione a un paese già duramente provato.